Si chiama F, la lista civica di Cora Fattori, che richiama ad una Fano maiuscola in vista delle elezioni primarie del 7 aprile per scegliere il candidato a sindaco di centrosinistra per la terza città delle Marche. Cora Fattori, assessora in carica per Ambiente, Cultura e Innovazione Tecnologica, è in corsa con i colleghi di Giunta, Fanesi, Mascherine e Lucarelli e ha presentato i suoi obiettivi sul tavolo del Caffè Centrale. Si parte dalle primarie e ci vuole una bella mobilitazione popolare, aiutatemi a passare le primarie e poi il 9 giugno ce la possiamo fare. Votare Cora Fattori perché in un solo anno erotti sono riuscita a fare tante cose con la determinazione e la passione ascoltando e collaborando con tante persone che oggi mi sono venute qui a sostenere. Voglio una città maiuscola che significa una città attenta alla persona, che passi dall'individuo e arrivi alla collettività. Una città con una politica coerente, noi parliamo sempre di essere fanno città dei bambini, per la prima volta ad una presentazione c'è un'area bimbi, dobbiamo imparare ad essere coerenti anche nel piccolo. Per Cora Fattori è un percorso che punta ad un miglioramento sulla linea di continuità delle politiche intraprese prima da consigliera con più Europa, poi da assessora. Gli aspetti principali del programma sono quelli che avete visto dal 2019 ad oggi, da consigliere comunale, poi da assessore ho cercato di portare sempre con coerenza il tema del rispetto della persona, della coerenza, del mettere a valore quelli che sono le potenzialità di una città, quindi efficientamento energetico, ambiente, rapporto con tutte le parti della città, a cominciare dalle associazioni, dalle imprese e le cose si sono fatte. Ecco perché votare Cora. È una Cora Fattori che non chiude le porte a possibili accordi o alleanze con i progressisti di Marchegiani in caso di vittoria alle primarie. Io sono stata sempre una persona inclusiva e non esclusiva, la mia storia lo dimostra in tutti gli aspetti. Sono disposta a parlare con tutti, ovviamente gli accordi, le unioni, i matrimoni si fanno sempre in due, non può essere una sola parte, ma massima apertura, massimo ascolto e poi se sono rose fioriranno.